Sono dieci le panchine simbolo di tematiche etico-sociali che in Viale Regina Margherita sono state vandalizzate. E in tutta risposta i volontari velocemente le hanno ridipinte per portare avanti il progetto Viale a Colori su un tratto storico della città che si fa luogo per la lotta ai diritti civili. A parte uno sconforto e un rammarico iniziale però ci siamo detti non ci fermeranno perché c'è chi la vuole questa bellezza e sono tanti che in questi due giorni di lavoro noi abbiamo iniziato e dato avvio ai lavori sabato in questi due giorni di lavoro si sono fermati complimentandosi con noi manifestando grande interesse così come ha fatto l'associazione appunto della signora Sorge manifestando davvero una felicità per questo tocco di colore qui sul Viale Regina Margherita. Per cui da un attimo di sconforto ci siamo detti non ci abbatteranno di certo. L'iniziativa nasce da un desiderio espressomi da alcuni residenti del quartiere Provvidenza in particolare da Marco Darma e dalla signora Gianmus. Ho abbracciato e sposato questo progetto sia da consigliere comunale mi sono premurata di richiedere le autorizzazioni necessarie a soprintendenza e comune che ringrazio anche per la celerità delle risposte sia come volontaria. Così con il tiro alla fune tra chi semina bellezza e chi deturpa già da oggi è stata inaugurata la prima panchina della giornata mondiale dell'Alzheimer alla presenza dei rappresentanti dell'associazione familiari Alzheimer di Caltanissetta. Grazie. Grazie.